Aumenti così sostenuti non si vedevano da dieci anni. L'inflazione, complice anche la ripresa economica, rialza la testa e comincia a incidere sui bilanci di famiglie e imprese. A dicembre fa sapere l'Istat prezzi su del 3,9% su base annua e dello 0,4% rispetto a novembre. Pesa soprattutto il caro energia, l'aumento vertiginoso del costo delle materie prime. Non solo ha fatto levitare le bollette di luce e gas, ma si sta anche trasferendo sui carburanti, con la benzina che oggi al self-service ha toccato quota 1,75 euro al litro, diesel a 1,62 euro. Il caro energia incide però anche sui costi di produzione e su quelli di trasporto e così a dicembre sono aumentati i prezzi del cosiddetto carrello della spesa e cioè dei prodotti che compriamo al supermercato, più 2,4%. Crescono i prezzi dei beni alimentari lavorati e non lavorati, ma anche quelli dei beni durevoli e dei servizi ricreativi. Ma quelli dell'energia aumentano quasi del 30%. Nel 2021, dice l'Istat, l'inflazione si è attestata al più 1,9% e il maggiore aumento dal 2012. Per una famiglia con due figli, calcola l'Unione Nazionale dei Consumatori, tutto questo si traduce in una spesa aggiuntiva di oltre 1.400 euro all'anno.